Il film si apre con una schermata introduttiva che menziona la missione Europa come primo tentativo di inviare astronauti sia maschi che femmine nello spazio profondo. Un gruppo di sei astronauti sta intraprendendo una missione finanziata da un'organizzazione privata per esplorare la Luna di Giove, Europa, alla ricerca di potenziali segni di vita. La squadra comprende il comandante William Psu, la pilota Rosa Dasque, il direttore scientifico Daniel Luxemburg, la responsabile scientifica di biologia Marina Katia Petrovna, l'ingegnere junior James Corrigan e l'ingegnere capo Andrei Block. Dopo questo, varie clip mostrano l'equipaggio degli astronauti che intraprendono il loro viaggio nello spazio. Mentre la scena avanza i feed della telecamera iniziano a distorcersi e alla fine si tagliano, con l'ultima immagine proveniente dalla cabina di pilotaggio di Rosa prima di diventare statica. Sulla Terra laceo di Europa Venture, la dottoressa Samantha Unger, sta facendo un'intervista. Spiega gli scenari della missione, sottolineando che la navicella spaziale ha superato tutti i record precedenti di distanza percorsa dall'uomo. Descrive poi ulteriormente che mentre era su un volo transatlantico ha ricevuto la notizia dal controllo missione di aver perso la comunicazione con l'equipaggio di Europa One. Inizialmente pensavano potesse trattarsi di un ritardo nella trasmissione, ma sono già passate più di 15 ore senza segnale. All'interno della navicella, l'equipaggio si riunisce nella zona giorno centrale, chiaramente turbato dall'assenza di James. Un video registrato conferma la tragica morte di quest'ultimo, lasciando l'intero equipaggio in uno stato di angoscia e di esaurimento emotivo. Katia esprime preoccupazione sull'avvisare la famiglia di James, e discute se continuare o meno la missione. La scena si sposta poi a 19 mesi prima degli eventi attuali, segnando l'inizio della missione. L'Europa Venture organizza una conferenza stampa per annunciare il lancio di Europa One nello spazio. I scienziati confermano l'esistenza di laghi sotterranei su Europa, e l'equipaggio sottolinea la connessione tra il liquido e il potenziale di vita. Inoltre, la NASA rileva indicatori di calore nell'area di Konamara Chaos. Sembra che l'intera squadra sia entusiasta di questa importante missione. La navicella spaziale viene lanciata con successo, e l'equipaggio riceve un applauso entusiasta dal controllo missione mentre passa oltre l'orbita della Luna. Mentre è a bordo, James registra un video che fornisce una panoramica dell'interno della nave, mostrando gli strumenti che hanno a portata di mano. Discute anche gli effetti dell'assenza di gravità nello spazio, e cattura l'eccitazione del resto dell'equipaggio. La scena poi si sposta al ventunesimo mese della missione, e l'equipaggio è ormai a più di 500 milioni di miglia di distanza dalla Terra. In contrasto con l'entusiasmo iniziale, si respira un'atmosfera tra l'equipaggio. Si vedono William e Daniel parlare della guarigione di Andrei, suggerendo che non se la passa bene ultimamente, probabilmente a causa della morte di James. Come risultato di questo, decidono di portarlo con sé sulla superficie di Europa piuttosto che lasciarlo da solo sull'orbiter. In questo momento la navicella spaziale è già in orbita attorno a Giove, e edere la loro destinazione così vicino aumenta il morale dell'equipaggio per completare la missione. Mentre si avvicinano all'orbita di Europa, si separano dalla navicella principale e procedono all'atterraggio sulla superficie ghiacciata. Tuttavia, incontrano interferenze radioattive vicino al sito di atterraggio pianificato. Per questo motivo optano per un punto alternativo che si trova a circa 100 metri dal Konamara Chaos, il loro sito prestabilito. Tornando sulla Terra la dottoressa Unger guarda Giove nel cielo, aggrappandosi alla speranza che l'equipaggio abbia raggiunto con successo la superficie, poiché non è in grado di comunicare con loro. Dopo aver impiegato alcuni giorni per stabilizzarsi sulla superficie di Europa, i membri dell'equipaggio iniziano a discutere della loro strategia per la raccolta di campioni e la ricerca di segni di vita. Daniel sottolinea la sfida che dovranno affrontare per ottenere i campioni desiderati, poiché non sono atterrati dove avrebbero dovuto. In risposta, Katia suggerisce di indagare sotto il ghiaccio poiché non c'è nient'altro che possano fare. Seguendo il suo consiglio iniziano a perforare la spessa superficie ghiacciata utilizzando un braccio robotico, e poi collocano una sonda subacquea remota. Sembra che acquisire i dati necessari non sarà così semplice. Mentre sfondano il ghiaccio, la loro navicella spaziale sperimenta un paio di vibrazioni improvvise. Daniel le attribuisce ai movimenti del ghiaccio, e assicura a tutti che va tutto bene. Di conseguenza, continuano con il processo di perforazione, anticipando ulteriori scosse man mano che la temperatura scende. Durante la notte la navicella subisce un altro episodio di scuotimento. Mentre il resto dell'equipaggio cerca di identificare la causa, Andrei vede una luce tremolante fuori dalla nave. Afferra quindi velocemente una macchina fotografica per catturarla, ma sfortunatamente non riesce a scattare la foto. Dopo questo si precipita dai suoi amici, e racconta il suo avvistamento di luci simili alle da circa 100 metri dalla nave. Il team controlla quindi vari feed della telecamera, ma non trova tale prova visiva. Tuttavia, quando esaminano i dati relativi alla firma termica, scoprono che il filmato di Andrei presenta problemi a causa dell'interferenza delle radiazioni. Fatalità, il filmato presenta problemi nello stesso momento in cui Andrei inizia a vedere la luce misteriosa. Questo fa credere a Daniel che Andrei potrebbe aver avuto un'allucinazione, e rispinge la sua preoccupazione. Più tardi quella notte, Andrei non riesce a dormire a causa del misterioso evento, così giura di scoprire la verità dietro di esso. Dopo ore di trivellazione la macchina finalmente perfora il ghiaccio, svelando per la prima volta cosa c'è sotto la superficie di Europa. L'intero equipaggio, specialmente Katia, è stupito e sopraffatto da questa vista incontaminata e inesplorata. Katia, essendo la biologa marina, stima che la profondità dell'oceano sia di circa 100 chilometri. Settano quindi il percorso verso la zona target, solo per notare alcune attività termiche inaspettate nelle vicinanze. Mentre lasciano che il robot raccolga campioni, sentono strani rumori e sospettano che siano delle vibrazioni. Lo spesso strato di ghiaccio sopraprotegge qualsiasi cosa dalle radiazioni, ma anche in questo caso rilevano un picco di quest'ultime. Questo fa capire a Katia che in realtà vengono dal basso, più in profondità nella zona target. La squadra si prepara quindi a riaggiustare la rotta, ma mentre le radiazioni persistono vedono uno sfarfallio di luce e poi qualcosa colpisce la lente della sonda, provocando la sua distruzione. Perdono poi il controllo della sonda proprio mentre si preparano a estenderne il braccio. Ora, l'unico modo per raccogliere campioni interessanti è camminare nella superficie per 100 metri fino alla zona target. Frustrata, Katia cerca di convincere i membri dell'equipaggio a permetterle di uscire e raccogliere i campioni. Loro però rifiutano, e iniziano a discutere sui pericoli posti dalle radiazioni di Giove. Il film ci riporta poi al sesto mese della missione, quando James è ancora vivo. Durante il viaggio verso Europa, viene visto registrare le sue attività quotidiane per la sua famiglia. A un certo punto l'astronave viene colpita da una tempesta solare, esponendola a un'onda di radiazioni che danneggiano componenti cruciali, inclusi i sistemi di comunicazione con il centro di controllo della Terra. Questo spiega perché l'immagine di Rosa nella cabina di pilotaggio è stata l'ultima immagine ricevuta sulla Terra. Per poter ispezionare e riparare il sistema, Andrei e James indossano le tute spaziali e partono. C'è però un problema, perché devono tornare rapidamente a causa della carenza di ossigeno? Dopo l'ispezione si accorgono che il pannello di comunicazione è stato fritto, quindi decidono di aprire il vano elettrico. Sfortunatamente, durante l'operazione, un pezzo di metallo si spezza e strappa la tuta di Andrei, facendogli perdere ossigeno. Vedendo questo James si precipita a portarlo alla camera di equilibrio. Proprio mentre stanno per entrare in quest'ultima, James nota che l'idrasina gli è schizzata su tutta la tuta a causa dell'esplosione del pannello. Questa sostanza chimica è così tossica che può contaminare l'aria della nave, rischiando la vita di tutti. Il veterano Andrei tenta di salvare James portandolo fuori dalla sua tuta, ma perde conoscenza per mancanza di ossigeno. Sapendo che non c'è speranza per sé stesso, James spinge Andrei nella camera di equilibrio mentre si allontana dalla nave, ma nella fretta si dimentica di fissarsi allo scafo. La nave si allontana, e a James rimangono solo pochi minuti di ossigeno. William dice che non può più essere salvato, perché quando torneranno da lui sarà già morto. Tutto ciò che William può fare è scusarsi. Nei suoi ultimi istanti James ringrazia Andrei per aver tentato di salvarlo, e dice a William di non dispiacersi perché è stato un incidente. Si ricorda poi della sua famiglia, la saluta, e muore lentamente asfissiato. Nel presente la squadra discute la possibilità di una passeggiata in superficie. L'equipaggio vota, e alla fine Katia può andare. Andrei e Rosa l'aiutano a indossare la tuta spaziale, mentre Daniel e William decidono di analizzare i dati. Una volta in superficie, Katia è stupita di vedere l'ipnotizzante vista d'Europa. Dopo un po' di tempo, restituisce i dati di diversi campioni. Tutti non contengono vita, ma quando analizza un campione del sottosuolo rileva un organismo unicellulare come le alghe. Questa scoperta porta grande gioia sui volti dei membri dell'equipaggio, poiché il loro duro lavoro ha dato i suoi frutti. In seguito William la richiama, ma Katia vede un'area luminosa nel buio. Pensando che potrebbe essere quella che Andrei ha visto prima procede a indagare utilizzando la sua riserva di ossigeno. Katia poi spegne le luci, e si avvicina alla fonte luminosa. Intanto, Daniel scopre che i livelli di radiazione termica si muovono effettivamente con la luce. Percependo il pericolo imminente l'equipaggio le consiglia di rientrare, ma prima che possa reagire il ghiaccio sotto Katia si rompe, facendola scivolare. Attraverso il localizzatore, possono vedere che Katia sta cadendo nel ghiaccio. Quando l'equipaggio controlla la telecamera del casco, vedono il suo viso terrorizzato che fissa una luce blu prima che la connessione venga completamente interrotta. In seguito l'equipaggio sospetta che si tratti di un organismo complesso, che si è attivato a causa della luce di Katia e l'ha attaccata. Decidono quindi di tornare sulla Terra per riferire la loro scoperta. Tuttavia, mentre procedono al decollo, affrontano alcuni problemi. Rosa e William hanno difficoltà a stabilizzare la navicella a causa di malfunzionamenti del motore. Il lander va in stallo, precipitando di nuovo verso la superficie. Di conseguenza, la nave inizia a cadere dall'altezza di 2000 metri. Con una mossa coraggiosa William lascia il suo posto e rilascia lo scudo d'acqua per rallentare la loro discesa. Riesce a salvare l'equipaggio, ma purtroppo muore a causa dell'impatto. Questa volta atterrano nella zona di atterraggio originale, il luogo in cui sarebbero dovuti arrivare inizialmente. Andrei fa una valutazione dei danni e spiega che stanno perdendo sia calore che ossigeno, di conseguenza si congeleranno presto prima di aspissiare. Nonostante questo, Rosa e Andrei sono determinati a superare la situazione. Mentre l'equipaggio continua a lavorare cercando di capire le cose, il ghiaccio inizia a spostarsi, facendo tremare violentemente la navicella. Andrei poi annuncia che ci vorranno due persone che lavoreranno fuori per un paio d'ore per sistemare il problema dei motori. Successivamente, Andrei e Daniel si vestono e si avventurano fuori per riparare parzialmente il guasto al serbatoio del carburante ghiacciato, mentre Rosa resta dentro a preparare i motori. Registra anche un video, nella speranza che, se non ce la faranno, i futuri esploratori troveranno le sue registrazioni. Collega quindi il registratore al pannello di comunicazione. Nel frattempo, mentre Daniel apre la camera di equilibrio e fa il primo passo fuori, la telecamera della sua tuta rileva le interferenze delle radiazioni. Il ghiaccio si sposta poi improvvisamente, facendo tremare nuovamente la nave. In mezzo a questo caos Daniel scompare. Andrei fa rapporto a Rosa dicendo che Daniel era circondato da luci e che il ghiaccio sotto di lui si è spezzato prima che svanisse. Dopo aver perso quattro membri dell'equipaggio, Rosa e Andrei sono gli unici sopravvissuti. Rendendosi conto che la nave non può essere riparata suggerisce un'alternativa, ovvero sistemare il collegamento di comunicazione con la loro nave madre. Questo, tuttavia, richiede il recupero di parti dal supporto vitale, in modo che possano inviare i propri dati alla Terra. Rosa riesce ad accettare che devono morire, e procede secondo le sue istruzioni. Dopo un po', Andrei riesce in qualche modo a raggiungere la superficie e inizia a trasferire le parti dal sistema di supporto vitale al pannello delle comunicazioni. Durante questo, si vede una luminescenza blu in agguato dietro di lui sotto il ghiaccio. La luce si avvicina ad Andrei, ma riesce a finire il suo lavoro. Sapendo che la sua vita sta per finire, Rosa decide di aprire la camera di equilibrio per scoprire la forma di vita che ha causato la morte dell'equipaggio. Prima di ciò, punta la telecamera dietro di sé mentre la nave scende sotto il ghiaccio. Accovacciata sul sedile del pilota, Rosa osserva la nave riempirsi d'acqua. Si vedono delle luci muoversi sotto la superficie, attaccate a una sorta di tentacolo. L'immagine finale cattura un'enorme creatura bioluminescente simile a un polipo che si avvicina alla fotocamera. Alla fine, la dottoressa Unger afferma che la loro missione Europa One ha chiuso il cerchio. Lei spiega come l'equipaggio ha sacrificato la propria vita l'uno per l'altro per mantenere viva la missione e per portare avanti ulteriormente la scoperta. La scoperta della creatura va oltre i loro modelli teorici più sfrenati, evidenziando come il nostro universo sia più strano e più vivo di quanto mai immaginato. Il film finisce con una foto di gruppo di tutta la squadra scattata all'inizio della missione, sorridente ed emozionata. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.